Tornavano a casa dopo una giornata di lavoro nei campi. Erano quasi le 23 quando due fratelli, titolari di un'azienda agricola, stavano rientrando nel comune di Sarmato. Lungo l'argine del Pola Mara Sorpresa, tre giovani stavano armeggiando nei pressi di un rimorchio di proprietà dei due fratelli che sono immediatamente scesi dal camioncino. A quel punto si è scatenata la violenza. I tre sconosciuti si sono scagliati sferrando calci e pugni prima di fuggire a bordo di un'auto. I due uomini, con il volto insanguinato, hanno contattato i carabinieri. Una pattuglia di San Nicolo è intervenuta subito e ha raccolto la loro testimonianza, mentre un'ambulanza del 118 li ha condotti all'ospedale di Castel San Giovanni per le medicazioni. Gli aggressori sono stati descritti come giovani che si sono espressi con accento straniero. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori della violenta aggressione.